Ciao, nello scorso video abbiamo parlato di corrente alternata. Per mantenere semplice il video, non è stata detta una cosa importante sulla potenza. Lo facciamo rapidamente adesso. Vero, anche se abbiamo accennato questa cosa in molti video precedenti. Se al posto di una resistenza in corrente alternata viene connesso un condensatore o un induttore, ci possono essere istanti in cui la tensione è a zero, ma non l'intensità di corrente o viceversa. Oppure che solo una delle due grandezze cambia verso, quindi polarità. In pratica, possono esserci degli istanti in cui la potenza elettrica è positiva e istanti in cui la potenza elettrica è negativa. Sappiamo già che condensatori e induttori possono accumulare energia e successivamente restituirla. Quando sono collegati ad un generatore di corrente alternata, questo scambio di energia avviene continuamente, alla stessa frequenza della corrente elettrica. In Europa, condensatori e induttori connessi alla corrente alternata accumulano energia 50 volte al secondo e per 50 volte al secondo la restituiscono alla rete. In un circuito misto, con resistenze, condensatori e induttori, una parte della potenza verrà trasformata in qualcos'altro, mentre un'altra parte di potenza elettrica rimbalza tra generatore e utilizzatore. In corrente alternata, il prodotto dei valori efficaci di tensione e intensità di corrente rappresenta quindi una potenza chiamata apparente. È comunque importante perché permette di conoscere i limiti di tensione e di intensità di corrente a cui può lavorare una macchina. La potenza elettrica, che invece viene trasformata in un'altra forma di potenza, si chiama attiva. Il rapporto tra potenza attiva e potenza apparente viene chiamato COSFI, ma diventerà chiaro alla scuola superiore dopo aver imparato le funzioni matematiche trigonometriche. Il misuratore di energia è installato dal fornitore di elettricità a misura e fa pagare solo in un'energia derivata dalla potenza attiva. Alle grosse aziende, che hanno un consumo di energia apparente molto superiore all'energia attiva, viene fatto pagare anche questa differenza. Bravo! Anche perché, così, abbiamo fatto un piccolo ripasso. Nelle vecchie illuminazioni con tubi al neon, infatti, veniva consumata poca energia, ma la corrente era parecchio alta a causa di una induttanza necessaria per far funzionare il tubo al neon. Anche i motori elettrici hanno una potenza apparente sensibilmente più alta della potenza attiva. Il misuratore installato nelle case interviene sull'interruttore quando l'intensità di corrente supera un certo valore, per cui, se si collega un apparecchio con grossa induttanza o grossa capacità, salta la corrente anche se la potenza attiva è ampiamente al di sotto del limite deciso nel contratto. Adesso facciamo un discorso divertente. Immaginiamo di aver bisogno di parecchia potenza elettrica, perché abbiamo tre grosse lampadine da far funzionare ad una certa distanza dal generatore. Una possibilità è usare un generatore di corrente alternata abbastanza grosso e una coppia di conduttori abbastanza grandi per avere poche perdite di potenza nella linea. Una seconda possibilità è usare tre generatori di corrente alternata e costruire un circuito separato per ogni lampada. Proviamo a ignorare la prima possibilità e vediamo cosa succede nella seconda. Se ci pensiamo bene, un filo di ogni circuito può essere messo in comune a tutti e tre i circuiti. Porterebbe quindi la somma delle correnti di ritorno dai tre circuiti e non ci sarebbero altre conseguenze. Ogni generatore alimenta la sua lampadina e tra i vari generatore non succede nulla perché tra di loro non hanno un circuito chiuso. Se i tre generatori fornissero in ogni istante una tensione uguale, ovvero da zero al massimo nei medesimi istanti, potrebbero essere messi in parallelo e non ci sarebbe più nulla da dire. Infatti papà, ma non è detto che abbiano la stessa tensione in ogni istante, anzi, lavoreremo proprio nel modo opposto. Per il momento quindi possiamo dire di poter alimentare tre utenze diverse e indipendenti con soli quattro fili. Ma adesso proviamo a vedere se di questi tre generatori ne possiamo costruire uno solo. Inseriamo tutte e tre le bobine in una sola macchina generatrice di corrente, però le installiamo lontane tra loro, in modo che il campo magnetico le attraversi in tempi diversi. Per fare le cose fatte bene, facciamo in modo che le bobine siano posizionate a 120 gradi tra di loro e le chiamiamo con le lettere R, S e T. Ad ogni giro del rotore il campo magnetico attraversa tutte queste bobine, ma in tempi diversi. Dividiamo il giro del rotore in sei momenti. Nel primo momento il rotore è allineato alla bobina R. Dopo un sesto di giro il rotore è allineato alla bobina T, ma col polo opposto. Al secondo sesto di giro il rotore è allineato alla bobina S. A metà del giro il rotore si allinea di nuovo con la bobina R, ma stavolta con il polo opposto. Dopo quattro sesti di giro il rotore si allinea con la bobina T, e dopo cinque sesti di giro di nuovo con la bobina S, invertendo i poli rispetto ai momenti precedenti. Quindi nelle bobine ci sarà un massimo di tensione in momenti diversi. Proviamo a metterle in un grafico. Mi pare tu stia spiegando qualcosa di molto complicato. No! Se hai capito il generatore di corrente alternata del video precedente, qui troviamo soltanto tre generatori dentro un solo apparecchio. Infatti, le bobine R, S e T generano ciascuna una tensione alternata con la stessa intensità e la stessa frequenza. Queste tre tensioni sono solo un po' spostate nel tempo, anzi, sono perfettamente equidistanti nel tempo. Ma proprio qui viene il bello. Adesso proviamo a unire i morsetti negativi delle bobine. Non ha senso chiamarli morsetti negativi, perché in alternata la tensione cambia continuamente di polarità. Usiamo quindi questo termine solo per semplicità. Portiamo all'esterno della macchina questo conduttore e lo chiamiamo N, che sta per neutro. Gli altri polli delle bobine li portiamo all'esterno della macchina e li chiamiamo R, S e T, come le bobine da cui derivano. Questi conduttori vengono chiamati fase, da cui il nome trifase perché sono tre. Tra i morsetti R e N abbiamo quindi il primo generatore, tra S e N il secondo e tra T e N il terzo generatore. Ad ognuno di questi generatori colleghiamo quindi una lampadina. Per comodità, facciamo l'ipotesi che le lampadine siano tutte puramente resistive e perfettamente uguali tra di loro. In questo caso, l'intensità di corrente all'uscita da queste tre fasi del generatore sarà anch'essa alternata. Sarà proporzionale alle varie tensioni e quindi sarà 0, al massimo positivo e al massimo negativo negli stessi istanti in cui lo sarà la relativa tensione. Vediamo cosa succede al filo del neutro. In questo filo arrivano le correnti di ritorno delle tre lampadine. Abbiamo già accennato al primo principio di Kirchhoff nei video precedenti. La corrente che torna dal generatore tramite il filo neutro è la somma delle correnti delle tre fasi. Sappiamo che le correnti sono proporzionali alle tensioni, quindi basta vedere cosa succederebbe facendo la somma delle tensioni. Quando una bobina è al massimo della tensione, le altre due bobine sono a metà tensione ma con polarità invertita. E quando una bobina sta passando per lo zero, le altre due bobine hanno lo stesso valore ma con polarità opposta. Possiamo quindi dire che per 12 istanti in ogni ciclo la tensione totale e quindi anche la corrente sul filo neutro è zero. Alla scuola superiore avremo la capacità di verificare che questa corrente totale è sempre zero. Se in un circuito la corrente che passa per un filo è zero significa che lo possiamo tranquillamente togliere senza che per il circuito cambi qualcosa. In corrente alternata a tre fase, quando ci sono tre carichi uguali alimentati da fasi diverse, la corrente che esce da una fase rientra tramite le altre due. Abbiamo anche visto che tra una corrente alternata a monofase e corrente alternata a trifase abbiamo aggiunto un solo conduttore ma trasportato tre volte la potenza che può portare una linea a due fili. La corrente di ogni fase, infatti, è la stessa che passerebbe con tre generatori e tre circuiti indipendenti. Una cosa importante da imparare. Questo collegamento, sia sul generatore sia sul lato delle lampadine, si chiama stella perché tutte le bobine e tutte le lampadine hanno un punto di collegamento in comune. Ci sono altri modi per fare i collegamenti in corrente trifase? Ma certo! Proviamo adesso a vedere cosa succede tra due fasi distinte. Se ci mettiamo in corrente continua e alimentiamo una lampadina con due pile in serie, abbiamo visto che alla lampadina arriva la somma delle tensioni delle due pile. Se le due pile hanno polarità invertita lungo il circuito, alla lampadina arriva la differenza delle tensioni delle due pile. In corrente a tornata vale lo stesso discorso, ma istante per istante. Tra due fasi diverse, infatti, si ottiene una tensione pari alla differenza di quella generata tra due relative bobine. Non posso spiegarvi oggi il calcolo matematico, ma vi dico già il risultato. La tensione tra due fasi è la radice di tre volte più grande della tensione tra fase e neutro. La tensione tra fase e neutro si chiama anche tensione di fase. La tensione tra due fasi si chiama tensione concatenata o tensione di linea. In una linea trifase, dove tra fase e neutro ci sono 230 volt, tra due fasi ci sono quindi 398 volt. Nelle macchine troverete ovviamente scritto il numero di 400 volt, perché sarà arrotondato. Quindi, in una linea trifase con neutro, che si trova nelle piccole aziende, con quattro fili si possono alimentare lampadine da 230 volt e anche lampadine da 400 volt? Certo papà! Se invece di avere tre lampadine da 230 volt, avessimo tre lampadine da 400 volt, le possiamo collegare anche queste alla stessa linea elettrica trifase. Ovviamente, ogni lampadina andrebbe collegata tra due fasi. Se volessimo distribuire bene la potenza in modo da avere la stessa corrente in ogni fase, il collegamento da fare viene chiamato a triangolo. Ecco perché nelle linee elettriche che portano energia elettrica nei quartieri o nelle aziende non proprio piccole, si usano tre fili. Già, le linee elettriche che alimentano quartieri residenziali o aziende con una discreta richiesta di energia usano tre fili proprio per i vantaggi che è la corrente alternata trifase rispetto alla corrente alternata monofase. Queste linee sono a media tensione, intorno ai 10.000 volt o 20.000 volt. E questa tensione viene abbassata a 230, poche centinaia di metri prima di arrivare nelle case oppure nei quartieri delle aziende. Anche le linee ad altissima tensione sopra i 100.000 volt usano il sistema trifase. Il filo più piccolo che viene messo in alto serve a proteggere la linea dalle scariche atmosferiche specie durante i temporali. Abbiamo visto quindi due vantaggi della corrente alternata trifase. Si sfrutta meglio la potenza trasportabile e si possono avere due tensioni diverse sugli stessi fili. Abbiamo detto tutto? C'è un'ultima cosa importante da dire. Proviamo a prendere un generatore trifase e lo colleghiamo ad una macchina simile ma senza nessun rotore. Come le bobine del generatore generano una tensione elettrica grazie al campo magnetico del rotore, le bobine della seconda macchina generano un campo magnetico all'interno della seconda macchina. Ogni bobina genererà quindi un campo magnetico alternato, ma all'interno della macchina ci sarà la somma di questi tre campi magnetici alternati generati dalle bobine. Ci sono varie dimostrazioni ma richiedono l'uso di vettori e trigonometria. Possiamo comunque usare la stessa logica che abbiamo usato all'inizio di questo video e vedere che la somma di tre campi magnetici alternati diventa un campo magnetico di intensità costante ma che ruota. Senza nessun componente in movimento la corrente elettrica alternata generata da una macchina trifase è quindi capace di creare un campo magnetico rotante. Questa è stata la scoperta dell'ingegnere italiano Galileo Ferraris. Se nella seconda macchina inseriamo un semplice blocco metallico il campo magnetico rotante lo farebbe girare per trascinamento e questo è il principio di funzionamento del motore trifase a sincrono. I motori trifase a sincroni sono usati in moltissime macchine grazie alla presenza molto diffusa della corrente trifase però la velocità di rotazione del campo magnetico rotante è impostata dalla linea elettrica. Quando andavo a scuola io esistevano pochi sistemi capaci di prendere corrente continua e trasformarla in alternata trifase per far funzionare questi motori ma negli ultimi anni questa tecnologia è notevolmente migliorata e si è diffusa moltissimo. Il suo vantaggio è poter regolare con estrema precisione la velocità dei motori cosa che si faceva già in corrente continua ma con macchine più complicate e delicate per via del collettore e delle spazzole. Adesso cosa spieghiamo? In questi 15 video abbiamo fatto una panoramica di quello che io ho studiato in tre anni alla scuola superiore. Ovviamente in tre anni ho visto molte più cose fatto misure molto più precise con tecniche particolari fatto moltissimi calcoli su circuiti più complessi e studiato vari tipi di motori e generatori a me è piaciuto tantissimo. Ma adesso è meglio fermarsi qui con l'elettrotecnica e passare a un altro argomento. Quindi parliamo di Arduino? Sicuramente adesso sappiamo bene cosa è la tensione e cosa è la corrente. Possiamo quindi giocare con Arduino o fare altri esperimenti di elettronica con maggiore consapevolezza. Bisognerà organizzare una nuova serie di filmati magari dopo una piccola pausa. Va bene un saluto a tutti e a presto per i nuovi video. Ciao!